Stefano Mazzoleni è il nuovo sindaco di Ponte Nossa, anche se ormai guidava il comune da un anno. Ha vinto con circa il 79% dei voti. Come commentare questo dato? Innanzitutto commenterei il dato molto positivo sull'affluenza alle urne. Oltre il 75% dei nosesi ha votato, quindi questo è un dato, un risultato davvero significativo. Quindi i nosesi tengono ancora al proprio comune, questo mi fa molto piacere. Il risultato direi ottimo, oltre il 78% ci dà ancora più motivazione. Ne avevamo prima, ma sicuramente ne abbiamo di più ora, perché ci sentiamo davvero rappresentati dalla maggior parte del paese. Questo ovviamente ci riempie di gioia, ma anche di un senso di responsabilità ancora più grande. Quindi la prima cosa che vorrei fare, a profitto di questo spazio, è quella veramente di ringraziare tutti i cittadini che ci hanno dato la fiducia e che ci hanno sostenuto in queste elezioni anche durante la campagna elettorale. Grazie davvero molto. Noi, io e il mio gruppo sicuramente ci impegneremo, daremo il massimo affinché il programma elettorale proposto possa essere portato avanti e faremo il possibile anche per far sentire comunque la vicinanza ai nostri cittadini. Questo è l'impegno che ci siamo dati e sicuramente ci metteremo il massimo per portarlo avanti. Che rapporto pensate di instaurare invece con la minoranza? Sicuramente da parte nostra ci sarà la massima apertura e la possibilità sarà sicuramente quella di un dialogo proficuo e propositivo. Questo è quello che sicuramente ci siamo comunque ripromessi durante la campagna elettorale come gruppo e speriamo che anche da parte loro ci sia la stessa volontà. Io me lo auguro perché alla fine maggioranza e minoranza comunque devono lavorare insieme per il bene della crescita della nostra comunità.